mi fai un complimento ovviamente deve fiscare fuori dal vaso come tutti i romani vabbè dai giro come giriamo? stesso campo senza orario c'è troppa luce tre giorni sotto il sole porco dici sono detto un po' sensibile non vedo nulla Marco le gambe correttamente ti scappa al pallone non puoi gestirla così la sinistra davanti a te la sinistra davanti a te ehi scusa vieni i palloni tira così palla 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 Sì, è in boccia. Grazie. 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 Grazie.